Abbiamo sperimentato con successo fino oggi questo percorso di ciclabilità dalle 10 alle 12 del mattino della domenica mattina sul centro città per consentire a chi abbia piacere di farlo con i ragazzi, con i bambini di girare un po' in bici in centro città senza interferenze automobilistiche se non sono proprio quelle minimi indispensabili dei residenti e sta avendo un buon successo. Molto più suggestiva ancora è questa prima partenza fatta questo mercoledì sera di girare la città in bici, ovviamente adulti perché con i bambini è più complicato di girare per le periferie, è stato un percorso abbastanza lungo, gradevole senza dover travalicare i tre ponti nessuno dei tre che attraversano la città quindi senza faticosità particolare e anche con un approdo di carattere gastronomico perché si prevede di visitare per ogni mercoledì sera un locale tipico della città, nelle zone periferiche della città. Io credo che è un'ottima incentivazione, anche molto bella a vedersi e anche emotivamente coinvolgente ed è uno strumento che può interessare, mobilitare le coscienze, le iniziative di tanti cittadini che hanno l'abitudine di prendere l'automobile quando se ne può fare tranquillamente a meno. e questa è la prima battaglia da vincere perché non ci sarà nuova strada, non ci sarà parcheggio, non c'è nulla che basti se non ci si convince a dover usare di più i piedi per camminare o la bicicletta per girare. Questa è una necessità alla quale bisogna convincersi perché altrimenti le nostre città diventano ulteriormente indivibili per l'inquinamento, il traffico e lo smog e anche perché è facile poterlo fare in un territorio come il nostro complessivamente piccolo. Indirittura di arrivo, la preparazione della segnaletica che verrà adoperata appunto per le future piste ciclabiche con segnaletica orizzontale? Sono tutte forme di sostegno alla mobilità sostenibile per la quale abbiamo già interessato nuovamente la società che all'epoca realizzò la pianificazione di mobilità che noi ci troviamo in eredità, voglio chiarirlo perché sono state dette delle mistificazioni su questa cosa, cioè un piano già consegnatoci, già commissionato con costi predefiniti e quindi che a noi rimaneva soltanto da pagare ed utilizzare. Adesso stiamo reinteressando quella società per degli adeguamenti legati in primo impatto a situazioni di maggiore urgenza come il traffico di Cicalesi che si è ulteriormente aggravato in quella zona per la chiusura del ponte di Via Cuomo e anche poi per avviare uno studio sui flussi di traffico almeno a costo zero entrambe le cose sul tratto viario via Garibaldi per via Barbarulo ma lì per completarne una pedonalizzazione a traffico limitato come per il resto del centro cittadino. Poi dovremo interessare con una procedura ordinaria di pubblica evidenza un nuovo interlocutore, una nuova società per avviare un progetto organizzato di mobilità sostenibile sul quale stiamo però, come lei diceva, già mettendo in campo concreto grazie a FIAB soprattutto queste iniziative concrete e specifiche.